Pillola di cucina Marrone sì, nero no Io, maccheronicamente parlando, mi diverto sempre a spiegare una cosa Lo zucchero ha una formula chimica con dentro una serie di elementi di nome carbonio Elementi di nome idrogeno, elementi di nome ossigeno Moleque Lo zucchero È una bella strona, una bella grossa, formata da atomi di carbonio, idrogeno, ossigeno Quando voi crostificate, rosolate, tostate Trasformate una serie di zuccheri, non tutto lo zucchero, una serie specifica di zuccheri In una sorta di caramello, che è molto maccheronicamente Non è che il caramello sia zucchero fuso, come pensano alcuni Il caramello è un composto chimico diverso dal composto chimico che è lo zucchero Naturalmente presente negli alimenti che stiamo rosolando, tostando, crostificando, eccetera Per l'esattezza, una delle differenze tra il caramello e lo zucchero, che se ne è andata via una parte di atomi di idrogeno e di ossigeno Sotto forma l'acqua, il vapore Cioè sale percentualmente il contenuto dell'elemento chiamato C Carbonio Carbonio Ok? E diventa marrone Marrone, sempre più scuro, testa di moro E naturalmente diventa più amaro È una sua caratteristica Il caramello è amaro Non è dolce È dolce finché gli resta ancora un po' di zucchero, non del tutto caramellato E quando è tutto caramellato è amaro Ma quando diventa nero È un'altra cosa Tutti gli atomi di idrogeno se ne sono andati Tutti gli atomi di ossigeno se ne sono iti E resta solo il C Di carbonio Che a questo punto è carbone Adesso Se c'è qualche chimico tra di voi Mi perdoni per il mio teatrale Il modo di esporre la cosa E so già da me Perché un po' di anni di chimica li feci anch'io Da giovane A scuola E' riscritto proprio a chimica industriale Quindi so che la spiegazione è estremamente maccherante Ma pur con qualche errore è concettualmente corretta Quando stiamo crostificando Nero è carbone e quello è cancro Perché la C identifica sia il carbone come elemento chimico Carbonio come elemento chimico Sia il cancro Vedete voi E ricordatevi Che un olio Può essere totalmente esausto Ed essere pulito Profumato Limpido E trasparente Ed essere totalmente esausto Perché L'odore E il colore Sono indici Di frittura Non di esaustività L'olio Si esaurisce Anche senza metterci dentro niente Se lo tenete in temperatura E quello è cancro Poi ognuno Faccia quello che vuole Ha la propria vita Ma in Italia è il reato penale Ricordatevi Quindi Patatine fritte Arrosti Rose beef Rosolature di cipolla Mirepoix Quello che volete voi Hamburger Costate Tagliate E così via Marrone Scuro Fino a quanto volete voi Ma mai Nero Nero E carbone Ciao